Un possino Un possino in India è stato 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 42.768 Un possino in India è stato condannato a 385 giorni di galera Voglio sognare ancora un po' Grazie a Daniele lo farò Se mi sveglio so che sarà ok Ogni minuto vengono mangiati più di 4.000 Ogni minuto vengono mangiati più di 4 La regina Elisabetta non ha il porta Porta, 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 portese Un possino in India è stato condannato a 385 Fray di Futurama Fray di F Fray di F Un possino in India è stato condannato a 385 Se mangiate 480 banane andrete in overdose di Un possino in India 42.768 In tutti i film Pixar è presente il frugoncino del pizza Ogni minuto vengono mangiati Un possino in India è stato condannato a 386 La finanza americana ha dovuto comprare un computer apposta Per poter calcolare la dichiarazione dei rabbi Vilma e Fred Fliscon Fliscon Ogni minuto vengono mangiati più di 4.000 hamburger da McDonald's Un possino in India è stato condannato a 385 anni di carcere Un possino in India è stato Gentleman only Gentleman only The quick brown fox The quick brown fox Jumps over the lazy dog The quick brown fox The quick The quick brown fox jumps Jumps Over the lazy dog E ho finito Se il video ti è piaciuto iscriviti al canale Clicca mi piace e condividi su Facebook Qui in alto potrai trovare gli ultimi tre video che ho fatto Ogni venerdì uscirà una nuova puntata Beh, ne hai di cose da fare, eh Dai, clicca mi piace Per favore, sarò il tuo migliore amico Questa è una storia che Ti sembrerà impossibile Ma ripensandoci un po' su Non era poi così difficile Vorrei passare tra